Il mercinaia è un imprenditore di successo in Italia e nel mondo, che ovviamente in funzione del suo lavoro ha girato tutto il mondo, soffremmo definirlo il risultato del mondo, ma non ha dimenticato le radici, perché insieme alla signora Angelina è nato qui, è nato e quindi ha ritenuto fare qualcosa per questo territorio a cui ovviamente, come noi, è molto legato. Ci sono in corso importanti realizzazioni che il sindaco e l'amministrazione conosce nella zona Piaggello, ma non è certamente questa la circostanza, ne parleremo, le espereremo in un altro momento che stiamo concordando con il sindaco. Queste realizzazioni prevedono una valorizzazione del territorio e anche, una cosa molto importante, soprattutto oggi, la creazione di nuovi posti di lavoro. Valorizzazione del territorio e dei suoi prodotti, prodotti che, secondo quella che è la parola d'ordine dell'ingegner Cinaia e della Consorpe, non che dei figli, con altri Miriam, devono essere improntate a un valore assoluto, l'eccellenza. E' eccellenza. Inoltre, e qui c'è anche il mio coinvolgimento perché sono coinvolto per riferire lo Stato, parallelamente a questa attività c'è un discorso, un'implicazione dei caratteri sociali, cioè di mettere molto, più possibile, anche a disposizione della comunità.